Oggi un altro modo per sferificare con agar agar e olio di semi. Metto l'olio di semi in congelatore per circa 20 minuti. Bianchitura del basilico, ossia lo sbollento in acqua bollente salata e poi lo passo in acqua e ghiaccio così rimarrà bello verde. Inserisco nel bicchiere del frullatore ad immersione insieme a 200 ml di acqua. Frullo tutto, poi setaccio. Prendo 3 grammi di agar agar e lo vado ad inserire nel basilico. L'agar agar per essere attivato deve scaldarsi, deve arrivare ad 85 gradi. Se non abbiamo un termometro dobbiamo aspettare che inizi a sobollire. Con una pipetta o una siringa prelevo l'acqua al basilico. Faccio cadere le gocce nell'olio di semi ghiacciato. Facendo cadere il liquido 2-3 volte nello stesso punto avremo delle sfere più grandi. Poi vanno sciacquate. Una divertente decorazione per i nostri piatti. Semplicità complessa! Sì! 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 Sì!